Inferno di fuoco nella notte in Costa Smeralda. Le fiamme sono partite intorno alle 4 e 45 nella notte tra il 15 e il 16 agosto. È divampato un vasto incendio all'interno di un chiosco in un'area immersa nel verde della macchia mediterranea. Ci troviamo nella spiaggia di Litriceddi, accanto alla più famosa liscia ruia, una zona difficilmente raggiungibile a causa delle strade impervie, e i pompieri hanno faticato non poco per raggiungere la zona con i propri mezzi antincendio. Il rogo ha divorato il chiosco in pochissimi minuti, mettendo a rischio tutta la vegetazione attorno, i vigili del fuoco hanno quindi operato utilizzando motopompe portatili, attingendo l'acqua dal mare per estinguere le fiamme il prima possibile. La struttura è andata completamente distrutta ma il grande lavoro dei pompieri di Arzachena ha scongiurato che le fiamme si propagassero alla macchia mediterranea circostante.